Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e mi raccomando prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale fondamentale e vi ricordo la nostra challenge. Convincete amici e parenti e appassionati di cinema o di birra a iscriversi al canale. Questi nuovi iscritti dovranno lasciare un commento a questo o a qualsiasi altro video del canale e in questo commento dovranno scrivere Ciao mi sono iscritto perché me l'ha consigliato la persona X. Superati i 300 iscritti estrarrò tre nomi tra queste nuove iscrizioni e queste tre persone vinceranno una cena per due nel pub di birra artigianale più vicino a casa loro. Non importa dove abitate, vi spedisco a cena fuori in tutta Italia e anche le persone che gli hanno consigliato di iscriversi vinceranno la stessa cosa. Quindi 6 cene per due in un pub ovunque. Quota 300, dai che ce la facciamo! Grazie. Grazie.